Che c'è a te? Dei due fratelli sono andato a quello che non doveva andare sempre. L'altro non lo conosco. Sì, di tutto o di più. Sì? Sì. Sì, oggi mangia proprio di tutto. Mangia, bevi un'ombra e mangia patatine. Sì, è liberato. Questo è il posto che ho passato. Strativi i campi da cazzetola. Ho fatto i due campi da cazzetola. Ho fatto i due campi da cazzetola. Ho fatto la cazzatura industriale. E facevi la guerra per avere un... Ti parlo di primi anni 90. Quei contributi... Non so se li ha fatti addirittura che i contributi. Si ha fatti i contributi della Comunica. Pagavi 80.000 lire, 90.000 lire per cercare noi. E non c'era spazio. C'era quella via a luglio. Sabato e domenica. E neanche erano il pomeriggio. E poi... Aveva una moglie che era una cosa incredibile. Una foto morena. E dopo... M'ho dato fuori tutto. M'ho dato. E' quello molto 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 molto? Si. E' quello molto molto molto? Con la carta? Si, si, si. Si. No? No? No, ma li hai tanto. Ma qua qua. Ma qua qua. Ma qua qua. Qua? Sì. Oli gli hotel. Un rigolo quindi che c'è. La faccia oggi? C'è il disagio che voglio darci parler vino. Un rigolo 20 settore. Seve un moltissimo quantitato.